Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video! Io mi chiamo Francesca e lei si chiama? Chiara, stavo pure nell'altro video sinceramente però mi ripresento perché non ha visto l'altro video Mi chiamo Chiara e ho 9 anni Ok, e noi siamo miei amici e non l'hai detto nell'altro video Allora oggi vi faremo vedere la mia collezione di gommine Incominciamo, incomincio io La volevo poi di usare La volevo vedere Chiara E ci facevamo vedere una gomma a testa Quindi poi mi faccio un po' più là e tu la prendi Sì però aspetta, inizia a prendere la mia Sennò dopo non la trovo più No cioè mettiamo al centro Ma dopo le posso cacciare? Sì però aspetta Mettilo qua e dopo vediamo Ok, voglio vederle solo Ok, allora Allora eccola qui, la prima Le posso cacciare? Sì sì vai Allora io vi voglio far vedere Queste con il fiocchetto bellissime Queste bellissime gommine che ne sono 4 Aspettate che ora le caccio Sarebbero tutti i gelatini Penso che si staccano Si staccano e si possono rimettere Chiara Mi ha fatto cadere il telefono Non fa niente Poi c'è quest'altra qui Non so se la vedete Che si staccano tutti quanti i pezzi Ora li riuniamo Scusate ma mi sono messa lo smalto Perché non sapevo cosa dovevo fare Vabbè ma non fa niente E poi c'è quest'altro gelatino Che è il penultimo Al Al Come si dice E poi c'è un altro Questo gelatino Qua Che è quello È quello Quello di prima Però così è al cioccolato Eh E adesso lo rimettiamo dentro E poi vi facciamo vedere Nella sua bella confezione Com'è E questa qua La sua bellissima confezione È stupenda Come al solito Ora è il turno di Francesca Comunque le gommine si trovano Dai cinesi Tutte in euro Allora C'è questo gelatino Guardate la confezione Credevo che era uno squishy È bellissima questa confezione Ma è pure un po' morbida Ma che morbida Ed è una gommina È gigante Pensa è una tonnellata E anche questo si stacca Cioè quasi tutte le gommine Si possono staccare Quasi tutte le gommine Si possono staccare E adesso ve lo faccio vedere Nella sua meravigliosa collezione Scusate che interrompiamo il video Ma sono cose Delle volte Mettiamo i torri Non si stanno zitti Ed eccolo qui Vabbè pure per mettere Ora è il mio turno E vi voglio far vedere Questa gommina A rossetto Sembrava Che si può staccare Ed è così Non lo sapevo Ed è bellissima Un lucido a labbra Quando Francesca se lo vuole mettere Cioè tipo Allora Io questa L'ho vista Questa l'ho vista Da Super Mister Risparmio A un euro A un euro E allora Io ho detto Oh gli ucci da labbra Che ho trovato da Lara Perché allora Una mia amica Che si chiama Lara Mamma E chi vuole essere salutato Sul nostro canale Sul mio Sul suo canale Scherzavo Lo scriva giù nei commenti Nell'info box E noi lo salviamo E noi lo salviamo Ora è il mio turno Levo quella mano No questa La fa vedere io Ma però Questa è la La fa vedere io Ora vedete questo Sì sulle matite Non so se si stacca Si si stacca Lo lo perdo Sì Infatti Aiutate Aiutate Sì E adesso Lo vado a mettere Nella sua confezione Ma è comunque bellissimo Ora è il mio turno Vediamo C'è questa gomma Che secondo me Non si dovrebbe collezionare Perché è una delle tante Proprio normali Che si usano Proprio per cancellare E questa qua Non c'è niente di particolare Si trovano In cartoleria Sì Io infatti Le ho trovate là Ma mi hanno fatto St'offerta E allora Un attimo solo Ragazzi Poi Nella categoria Dei telefoni Ci stanno tutti questi Anche Anche bianchi Più realistici C'è un altro Fucsia E sono In tutto Nove Telefonini E sono Bellissimi Mi piacciono Da morire Invece Nella categoria Dei soldi Abbiamo questi due Una 50 euro Una 20 euro Però questa L'ho rotta Cioè Si è rotta Nella busta E così Vabbè E sono normali soldi Non è normale Sì Sono comini Ragazzi Mi imbarazzo A far vedere Questi Dimash Corsa E mi sono uscite Nell'uovo Che mi ha regalato Mia zia Però sono molto Però sono molto Dettagliate Però mi imbarazza A far vedere Queste cose schifose Che schifo Sono cose finite Allora Poi nella categoria Delle Gommine a cerchio Abbiamo questi Abbiamo questi qua Normalissimi Solo questi qua Questa è della Disney Che l'ho vinto A una festa Che l'hanno dato Alla festa Come bomboniera E infine Poi nella categoria Di quelle blu e rosse Ci sono questa Queste E poi c'è questa qua Che cancella solo Le penne Ed è la cancella Lì che infatti La devo regolare A mia cucina E infine c'è questa Dei topini Come si chiamano? L'astronave qua Ragazzi Queste Queste qua Erano tutte le Gomme di Francesca E noi vi salutiamo Ciao E speriamo Che questo video Vi sia piaciuto Se è così Lasciate un like Se volete E vi potete iscrivete Al mio canale Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao